darla. Ma devi fare pace con te stessa, perché purtroppo succede che molte donne restano deluse perché si sono illuse prima e poi dicono, ah, quello è un narcisista. I narcisisti c'è pieno di narcisisti, ma non è uno che se ti porta a letto una volta è un narcisista, e sarà un seduttore, sarà un libertino. C'è addirittura una community di seduttori, ci sono i pick-up artist, di cui io in tempi addietro addirittura ho fatto parte, non so, ve l'ho già detto, no? Io quando ero giovane, diciamo, pensate che non c'era né YouTube, Internet, non c'era ancora niente, c'erano dei forum, forum Yahoo, non so, credo che negli anni 90 c'era i primi così Internet, non c'era ovviamente né Facebook, né Instagram, né YouTube, non c'era niente, non c'era YouTube, non c'era Facebook, non c'era Internet, ma c'erano dei forum dove ci si scriveva, era appena Internet, era nato da poco, e il nickname era The Collector, e magari ci sono ancora quei forum dove il mio nickname faceva parte della community di seduttori italiani, diciamo. No, non c'era Napoleone, c'era già Internet, Internet, ed era The Collector. Comunque, questo è un punto fondamentale, no? Questo è il primo punto, perché poi la vita è anche fatta di momenti, la vita è anche fatta di sensazioni, la vita è fatta anche di emozioni, quindi goditi questi momenti, queste sensazioni, queste emozioni, devi imparare a godertele. È ovvio che dipende sempre da quello che poi uno cerca. Ripeto, se tu dici, io la voglio dare soltanto all'uomo della mia vita, allora non darla, fin tanto che non avrai tutti i segnali. Ci sono tutti gli archivi dove The Collector descrive, secondo me, io non mettevo mai dettagli scabrosi. Cosa collezionavo, secondo te, Deborah? Allora, se ero in un forum, se ero, diciamo, facevo parte di una comunità di seduttori, mi chiamavo The Collector, secondo te cosa, 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 diciamo, collezionavo? Le figurine, collezionavo le figurine, no The Collection, The Collector. Collezionavo le figurine, collezionavo le figurine, le figurine, collezionavi Franco Bolli. Esatto, collezionavo Franco Bolli, Franco Bolli collezionavo. Comunque, il concetto di fondo, il concetto di fondo era questo. Il mondo della seduzione è affascinante, ma perché è affascinante? Perché è ricco di esperienze di vita. È affascinante il mondo della seduzione, perché il mondo della seduzione è affascinante perché è ricco di esperienze di vita. È un mondo, secondo me, che ti permette di crescere, che ti permette di scoprire cose nuove, ma soprattutto di scoprire delle cose di te stessa o delle cose di te stesso. Puoi anche incontrare persone interessanti, perché giocando il gioco della seduzione puoi incontrare persone interessanti, puoi incontrare persone affascinanti. Questo libro, diciamo, che ho scritto, Ingegneria della seduzione, parte proprio da questo presupposto. Tra l'altro, provate a chi l'avesse ancora comprato, ricordo che io ho anche scritto due libri, che sono Ingegneria della seduzione e l'altro libro, che è America, please, emozione e seduzione. Il libro, diciamo, Ingegneria della seduzione, tratta proprio le varie tematiche legate alla seduzione. America, please, è un po' più tecnico. Io non faccio mai pubblicità dei miei libri, però ricordo che chi fosse interessato li trovate dappertutto, praticamente, i libri nelle librerie, eccetera, eccetera. Quindi, perché? Poi, è ovvio che nell'ambito della seduzione dipende anche dall'età che tu hai, fondamentalmente, no? Perché è ovvio che l'età c'entra fondamentalmente, no? Perché è ovvio che magari a 30 anni, 35 anni, un maschio ha certe idee sul tema Andrea Giovani. Io, diciamo, ho passato, no? Dei periodi, appunto, come The Collector, e mi divertivo, fondamentalmente. Perché quegli anni lì, della seduzione, della comunità, della community di seduttori, era interessante, comunque, perché si scoprono tante cose anche su se stessi. Ma comunque, impari anche a esercitare fascino, impari anche a, diciamo, a mantenere, poi, eventualmente, una relazione stabile. Perché sembra strano, adesso The Collector of Carampanes, adesso? Perché questo è un gioco...